Il ritratto di Elsa Greer. Capitolo 11. Il porcellino che gridava ai ai ai. L'appartamento di Adrian Warren guardava su Regent Park. In quel giorno di primavera, dalla finestra aperta, entrava un'aria tiepida e non fosse stato per il frastuono del traffico nella via sottostante ci si poteva illudere di essere in campagna. Poirou si allontanò dalla finestra nel momento in cui Adrian Warren apriva la porta per entrare nella stanza. Non era la prima volta che la vedeva. Aveva assistito a una sua conferenza alla Royal Geographical Society, una conferenza che gli parve ottima, forse un po' arida perché potesse raccogliere il gradimento del pubblico più largo. Vedendola ora da vicino, si accorgeva che Adrian avrebbe potuto essere una bellissima donna. I suoi lineamenti erano regolari per quanto severi, aveva le sopracciglia castane finamente disegnate, gli occhi intelligenti e una bella carnagione pallida. Le spalle erano larghe l'andatura lievemente maschile. Certo in lei non c'era nulla che suggerisse l'idea del porcellino che gridava ai ai ai, ma sulla guancia destra una profonda cicatrice la sfigurava, raggrinzendo la pelle. L'occhio destro era leggermente deformato, ma non ci si accorgeva che era irrimediabilmente perduto. A Poirou sembrò che fosse talmente abituata alla menomazione da non farci più caso, e si rese conto che delle cinque persone di cui si era interessato per investigare sul caso, quelle che alla partenza si trovavano in una posizione di vantaggio, non erano le stesse che avevano ottenuto il miglior successo nella vita e la felicità. Elsa, che possedeva gioventù, bellezza e ricchezza, aveva sortito l'esito peggiore. Era come un fiore sorpreso dal gelo precoce, ancora in boccio, ma senza più vita. La signorina Williams, in apparenza, non aveva avuto alcuna carta su cui puntare. Ciò nonostante, agli occhi di Poirou non si era lasciata battere, e non mostrava debolezze. La vita della signorina Williams era stata interessante, perché lei aveva sempre provato interesse per le persone e le cose. E ora, in Adrienne Warren, Poirou credeva di scorgere uno spirito rafforzato dalle battaglie che necessariamente aveva dovuto affrontare per acquisire fiducia e sicurezza. La scolara indisciplinata aveva ceduto il posto a una donna piena di forza e di vita, dotata di considerevoli capacità intellettuali e di molta energia che le servivano per raggiungere i suoi scopi ambiziosi. Poirou sentiva con certezza che era una donna felice e riuscita. Tuttavia, non era il tipo che piacesse a Poirou. Per quanto la chiarezza incisiva della sua mente fosse ammirevole, c'era in lei quella nuance della femme formidable da cui Poirou, come uomo, si teneva a distanza. Con lei fu facile entrare in argomento. Poirou non ricorse a sotterfugi e si limitò a raccontarle della visita di Mary Le Marchand. Il viso di Adrian Warren si illuminò per l'interesse. «Non vi siete mai riviste o sentite?» le chiese Poirou. «Era una bambina quando partì per il Canada e pensai che probabilmente in un paio d'anni si sarebbe dimenticata di noi. Negli anni seguenti i soli legami furono alcuni scambi di doni natalizi. Pensavo che fosse completamente immersa nella nuova vita canadese e che così sarebbe stato anche per il futuro. Date le circostanze del resto, pensavo che fosse meglio così.» «Già, si poteva pensare, infatti», ammise Poirou. «Cambiamento di nome, cambiamento di scena, una nuova vita. Ma non è stato così.» Le raccontò del fidanzamento di Mary, della scoperta che aveva fatto entrando nella maggiore età e dei motivi che l'avevano indotta a tornare in Inghilterra. Adrian Warren ascoltava in silenzio, con una mano appoggiata sulla guancia sfregiata. Non tradì nessuna emozione. Durante il racconto e quando Poirou ebbe finito, disse «Brava, Mary». Poirou si stupì. Era la prima reazione di questo genere cui si trovasse di fronte. «La provate, signorina Warren?» chiese. «Sicuramente, e le auguro di riuscire. Farò tutto quello che potrò per aiutarla. Mi sento colpevole di non aver cercato io stessa di fare qualcosa.» «Allora, credete ci sia una possibilità che lei abbia ragione di pensare così?» Ha senz'altro ragione, rispose decisa Adrian. «Sono sempre stata certa che Caroline non avesse commesso il delitto.» «Mi sorprendete molto?» mormorò Poirou. «Tutti gli altri con i quali ho parlato...» «Non dovete basarvi su questo. Io non ho alcun dubbio che le circostanze l'abbiano sopraffatta. La mia convinzione è basata sulla conoscenza di mia sorella. So che non avrebbe potuto uccidere nessuno.» «Si può essere così certi di una creatura umana?» «Forse in molti casi no. Ammetto che l'uomo è pieno di strane sorprese, ma per Caroline c'erano delle ragioni speciali. Ragioni per cui io avevo la possibilità di conoscerla meglio di chiunque altro.» Si toccò la guancia sfregiata. «Vedete? Forse ne avete sentito parlare?» «Puoro a noi.» «È stata Caroline a farmela.» «Per questo io sono certa. So che non fu lei a uccidere.» «Per molti non si tratterebbe di un argomento convincente.» «No, raggiungerebbe l'effetto contrario. E credo proprio che al processo lo si sia ricordato per questo, cioè per dimostrare che Caroline era violenta e non sapeva dominarsi. Per il fatto che aveva colpito una bambina, quegli uomini saggi ritennero che fosse ugualmente capace di avvelenare un marito infedele.» «So vedere la differenza, un ascesso improvviso di rabbia non comporta che uno prima rubi del veleno e poi lo usi deliberatamente.» Disse Puoro. Adrian agitò impazientemente una mano. «Non è tutto qui quello che voglio dire. Cercherò di farvi capire. Supponete di essere una persona normale e di temperamento dolce, ma anche portata a una cieca gelosia. E supponete, nell'età in cui è più difficile controllarsi, di compiere in un accesso d'ira un gesto che è effettivamente un delitto. Pensate alla tremenda scossa, all'orrore e al rimorso che provereste in seguito. Per una persona sensibile come Caroline, l'orrore e il rimorso non sarebbero mai finiti, come infatti avvenne. La metà dei litigi che aveva con Amias erano per causa mia. Io ero portata a essere gelosa di lui e gli facevo ogni sorta di scherzi. Una volta gli ficcai un riccio nel letto e un'altra delle lumache. Mi procurai l'erba dei gatti per mettergliela nella birra. Ma Caroline era sempre dalla mia parte. Dopo una pausa, Adrian Warren proseguì. Forse non era bene per me, perché divenne tremendamente viziata, ma questo non c'entra. Stavamo parlando dell'effetto che l'incidente ebbe su Caroline. Il risultato di quel violento impulso fu una ripugnanza invincibile per qualsiasi altro atto dello stesso genere. Si controllava sempre, temendo che qualcosa di simile potesse ripetersi. E usava tutte le precauzioni per evitare il pericolo. Una di queste era il suo strano modo di esprimersi. Le pareva, e credo con ragione, che parlare in modo violento la trattenesse dall'agire con violenza. Per esperienza trovò che il metodo era buono. Così sentì da Caroline frasi come «vorrei tagliarlo a pezzettini e bollirlo nell'olio a fuoco lento, oppure rivolgendosi a me o ad Amias, se continui a seccarmi ti ammazzo». Allo stesso modo litigava spesso furiosamente, perché era conscia dell'istinto che aveva dentro di sé e deliberatamente lo sfogava con le parole. Lei e Amias litigavano nel modo più pazzesco e volgare. «Sì, mi hanno detto che litigavano come cane e gatto». «Esattamente», disse Adrian. «Amias e Caroline litigavano, ma certo si scambiavano insulti, crudeli, amari. Quello che nessuno capì è che loro ne godevano a litigare. A tutti e due piacevano i drammi e le scene forti. Non è così per la maggior parte della gente che ama la tranquillità». E poi Amias era un artista. Gli piaceva gridare, minacciare e mostrarsi sempre furioso. Per lui era soltanto uno sfogo. Parra strano, lo so, ma Amias e Caroline si divertivano con quelle continue litigate. Fece un gesto di impazienza. «Se solo mi avessero permesso di deporre. Lo avrei detto». Si strense nelle spalle. «Ma non mi avrebbero creduto e comunque tutto questo non era chiaro nella mia mente come lo è ora. Era una cosa che sapevo, ma sulla quale non mi soffermavo, né mi sarei mai sognata di tradurla in parole». Guardò Poirou. «Capite cosa voglio dire?» «Capisco perfettamente e riconosco l'assoluta ragionevolessa di quel che avete detto. Ci sono persone che odiano la monotonia». «E per questo cercano ogni pretesto di disaccordo per drammatizzare le loro vite?» «Esattamente». «Posso chiedervi, signorina Warren, quali furono le vostre sensazioni a quel tempo?» «In massima parte un senso di confusione e di abbandono. Mi pareva un incubo. Caroline fu arrestata molto presto, circa tre giorni dopo, mi pare. Ricordo ancora la mia indignazione, la mia rabbia impotente e anche la mia fede infantile che tutto ciò non fosse che uno sciocco errore, che tutto si sarebbe messo a posto. Caroline era preoccupata per me e desiderava che fossi tenuta lontano il più possibile dalla vicenda. Incaricò la signorina Williams di portarmi presso certi nostri parenti. La polizia non fece obiezioni. E poi, quando fu deciso di non chiamarmi a deporre, perché non lo si riteneva necessario, si fecero le pratiche per mandarmi in collegio all'estero. Io non ci volevo andare a nessun costo, ma mi spiegarono che Caroline era terribilmente angosciata per me e che l'unico modo di aiutarla era partire. Così andai a Monaco, in Germania. Ero là quando fu pronunciata la sentenza. Non mi fu mai permesso di farle visita. Lei non voleva e l'unica volta, penso, che non si mostrò comprensiva verso di me. Non potete dirlo con certezza, signorina Warren. Visitare una persona che si ama rinchiusa in prigione può produrre un'impressione tremenda. Forse. Alzandosi, continuò. Dopo il verdetto, quando fu condannata, mi scrisse una lettera. Non l'ho mai mostrata a nessuno, ma credo che farò bene a mostrarla a voi. Può aiutarvi a comprendere che donna fosse Caroline. Se volete, potete farla vedere anche a Mary. Avviandosi verso la porta, si voltò per dire. Venite con me, in camera mia, cioè un suo ritratto. Per la seconda volta in quella vicenda, Poirot vedeva un ritratto e ne rimaniva accolpito. Dal punto di vista artistico, l'opera era mediocre, ma Poirot lo osservò con interesse, perché non era certo il valore artistico che gli importava. Vide un volto ovale, con la mandibola dolcemente delineata, e un'espressione timida e dolce. Era al viso di una donna incerta, emotiva, di una bellezza velata. Gli mancava quel senso di forza e di vitalità che ispirava da quello della figlia. Quell'energia e quella gioia di vivere che senza dubbio Maryle Marshawn aveva ereditato dal padre. Questa era una creatura meno positiva. Tuttavia, guardando il ritratto, Poirot comprendeva come un uomo pieno di immaginazione, come Quentin Fogg, non avesse potuto dimenticare. Adrian Warren gli stava accanto con una lettera in mano. «Ora che avete visto com'era», disse a bassa voce, «leggete la lettera». Ha perso il foglio e lesse quello che Caroline Cray l'aveva scritto sedici anni prima. «Mia piccola carissima Adrian, sentirai delle cattive notizie, e certo te ne addolorerai, ma desidero dirti che va tutto bene. Non ti ho mai mentito, e non mento nemmeno ora se ti dico che sono felice, che provo un senso di pace e di giustizia come non ho mai conosciuto prima. Va tutto bene, carissima, va tutto bene. Non pensare al passato, non rimpiangermi e non addolorarti per me. Prosegui per la tua vita, e riuscirai, sono certa che riuscirai. Va tutto bene, tutto bene, carissima, e io andrò a raggiungere Amias. Non ho mai dubitato che ci ritroveremo insieme, non avrei potuto vivere senza di lui. Fa una cosa sola per me, sii felice, io te l'ho detto, lo sono. Bisogna pagare i propri debiti, è l'unico modo per sentirsi in pace, la tua affezionata sorella Caroline». Fuoro rilesse due volte prima di restituire il foglio. «Una bellissima lettera, notevole». Caroline era una donna notevole. «Sì, una mente fuori dal comune, da questa lettera di ducette che era innocente. Certo. Non è che lo dica esplicitamente, perché sapeva che non mi sarei mai sognata di crederla colpevole. Forse, forse, ma si può interpretare in un altro modo, nel senso che era colpevole e che avrebbe trovato la pace espiando». Gli pareva che questo coincidesse con il comportamento di Caroline al processo, così come gli era stato descritto. In quel momento provò i più vivi dubbi sull'esito della sua missione. Ogni cosa conduceva alla colpevolezza di Caroline, e ora le sue stesse parole testimoniavano contro di lei. A dire il contrario, c'era l'inamovibile convinzione di Adrian Warren. Lei indubbiamente l'aveva conosciuta bene, ma non era forse per la sua fanatica lealtà di adolescente, completamente devota alla sorella. Come se avesse letto nella sua mente, Adrian disse «No, signor Poirot, so che Caroline non era colpevole». «Il buon Dio», rispose vivacemente l'investigatore, «sa che io non voglio scuotere la vostra certessa, ma siate pratica. Dite che vostra sorella non era colpevole? Benissimo. Allora che cosa accade in realtà?» «È difficile, lo riconosco. Suppongo, come diceva Caroline, che Amias si sia tolto la vita». «E questo concorda con ciò che sapete del suo carattere?» «No». «Conoscevate bene vostro cognato?» «Sì, ma non come conoscevo Caroline. Mi sembra inverosimile che Amias si sia ucciso, ma potrebbe averlo fatto. In fin dei conti deve averlo fatto». «Non vedete un'altra spiegazione?» «Oh, capisco quello che volete dire. Veramente non ho mai considerato questa possibilità. Supponete che uno degli altri lo abbia ucciso, che sia stato un delitto compiuto a sangue freddo». «Potrebbe essere stata così?» «Sì, ma non mi sembra un'ipotesi convincente». «Mino convincente del suicidio?» «È difficile dirlo. In apparenza non c'era motivo di sospettare un altro. Non c'è neanche in ora, se riesaminiamo il passato». «Teniamo lo stesso in considerazione questa possibilità. Chi fra le persone più intimamente coinvolte è secondo voi a maggiori probabilità?» «Fatemi pensare. Beh, io non l'ho ucciso, e certo neanche Elsa. Era folle d'ira quando lui morì. Chi altri c'era? Meredith?» «Era devotissima a Caroline. Forse poteva avere un movente, in un romanzo si direbbe che voleva togliere di mezzo Amias per sposare Caroline. Ma avrebbe potuto ottenere ugualmente quello che desiderava, lasciando che Amias se ne andasse con Elsa, per poi consolare la sposa abbandonata. Inoltre non riesco proprio a vedere Meredith nelle vesti dell'assassino. È troppo mite e prudente. Chi altri c'era?» «C'erano la signorina Williams e Philip Blake», suggerì Poirot. «La signorina Williams. È impensabile che la propria governante possa commettere un delitto. E la signorina Williams era sempre così rigida e retta. Tacco è un momento. Era anche devota a Caroline, però. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei. E odiava Amias. Era una femminista convinta e detestava gli uomini. È sufficiente questo per giustificare un delitto? No, di certo. Infatti mi pare difficile», concordò Poirot. «Philip Blake», proseguì Adrian, rimase in silenzio per qualche momento. «Penso che se stiamo parlando di probabilità sia senz'altro la persona più probabile». «Mi interessa molto quello che dite, signorina», osservò Poirot. «Posso chiedervi perché dite così?» «Niente di certo, ma da quello che ricordo direi che era una persona d'immaginazione limitata». «E secondo voi un'immaginazione limitata predispone al delitto? Potrebbe condurre a risolvere in modo sbrigativo le difficoltà. Gli uomini di quel tipo trovano una certa soddisfazione ad agire, in qualsiasi modo. Il delitto è un affare molto sbrigativo, non vi pare?» «Sì, penso che abbiate ragione. Tuttavia, signorina Warren, ci deve essere anche dell'altro. Che motivo avrebbe potuto avere, Philip?» Adrian non rispose subito. Fissava il pavimento con le sopracciglia aggrottate, riflettendo. «Non era il miglior amico di Amia Scrail?» sottolineò Poirot. «Sì. Avete qualcosa in mente, signorina Warren? Che ancora non mi avete detto? Forse i due erano rivali a causa di Elsa?» «Oh no, Philip no», rispose Adrian scuotendo la testa. «Cos'è allora?» «Sapete come le cose riaffiorino d'improvviso alla mente, anche dopo molti anni. Una volta ero in un albergo, camminavo in un corridoio. Si aprì la porta ad una camera e ne uscì una donna che conoscevo. Quella non era la sua camera, glielo lessi chiaramente in faccia quando la vidi, e in quel momento ricordai che la sua era la stessa espressione che avevo visto una notte sul viso di Caroline, mentre usciva dalla stanza di Philip Blake. Si sporse in avanti, come per impedire a Poirot di interromperla. Non me ne resi conto lì per lì. Sapevo, come sanno in generale, le ragazze di quell'età, ma non connettevo quel che sapevo con la realtà. Per me Caroline che usciva dalla stanza di Philip era solo Caroline che usciva dalla stanza di Philip. Avrebbe potuto essere la stanza della signorina Williams o la mia. Ma quello che notai fu l'espressione del suo volto. Un'espressione strana, che non conoscevo e non capivo. Né la capii fino a quando, come vi ho detto, quella notte a Parigi vidi l'identica espressione sul volto di un'altra donna. Ma quello che mi dite, signorina Warren, è sorprendente, esclamò Poirot. Ho avuto l'impressione che a Philip non piacesse vostra sorella, né che mai gli fosse piaciuta. Lo so, rispose Adrian. Non posso spiegarvelo, ma è così. Poirot annui lentamente. Aveva intuito nel suo colloquio con Philip Blake che qualcosa non andava. La sua eccessiva animosità nei confronti di Caroline non era naturale, e gli tornarono alla mente le parole di Meredith. Philip fu molto contrariato quando Amias la sposò. Non li frequentò per almeno un anno. Forse Philip era sempre stato innamorato di Caroline, e il suo amore si era tramutato in odio e amarezza quando lei aveva scelto Amias. Sì, Philip era stato troppo vehemente. Aveva ecceduto nel biasimarla. Poirot rivedeva in quell'uomo soddisfatto e prosperoso nella sua comoda casa. Che cosa aveva effettivamente provato Philip sedici anni prima? Non riesco a capire, riprese Adrian. Vedete, non ho mai avuto molta esperienza in questioni amorose. Non mi sono mai trovata in situazioni del genere. Ve l'ho raccontato nel caso possa avere un peso. Bentornati su Narrazioni Senza Importanza. Finalmente abbiamo esaurito tutti gli interrogatori, se vogliamo chiamarli così, dei nostri cinque sospettati, con Adrian, la sorellastra di Caroline, come ultima interrogata, e ci fornisce delle novità veramente straordinarie. Chissà come proseguirà la storia. Lo scopriremo nei prossimi capitoli. Vi ricordo che sulla community del canale trovate un sondaggio in cui vi chiedo se vi piacerebbe un video, diciamo, un po' diverso dal solito, in cui rispondo alle vostre domande, curiosità, critiche, insomma, tutto quello che magari vi è venuto in mente in questi mesi in cui ci siamo conosciuti e abbiamo parlato nei commenti. Per cui, se vi interessa potermi fare qualche domanda, potete scriverle nei commenti. E io piano piano le raccoglierò per poter poi rispondere alle vostre domande. Come sempre vi ringrazio per essere state in mia compagnia. Se il mio progetto vi sta piacendo potete iscrivervi al canale, mettere un like, un commento, condividere il video. Potete venirmi a trovare anche su Instagram, Narrazioni Senza Importanza. E come sempre ci ritroviamo al prossimo capitolo. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!